Musica Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, notizie di oggi, mercoledì 22 febbraio. Canavese, nei giorni scorsi sono state denunciate alla procura di Ivrea 11 persone, 6 di esse controllate di Ivrea, le restanti a Quornie, Borgomasino, Carema, Montalto d'Ora. 10 in tutti i conducenti, d'età compresa tra i 54 e i 23 anni, denunciati per guida in stato di ebrezza, di cui 4 lo scorso fine settimana. A Ivrea, Pavone Canavese e Ruelio, 3 persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciato per detenzione ai fini di spaccio un ventenne di Montalto d'Ora. Ceres, questa mattina intorno alle 8.30, un camion frigo è uscito fuori strada, il mezzo si è tenuto un po' troppo sulla destra e le ruote sono finite nel canale di scolo che costeggia la strada, delimitato da un cordolo in pietra, il leso al conducente. Front, investito da un'auto ieri pomeriggio sulla provinciale 31, non sarebbe in pericolo di vita. Ferito in modo grave, il ciclista, un 57enne di Ponte Canavese, è stato ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Chivasso, ad abbandonare la lancia Y su binari della linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Osta, all'altro giorno, sarebbe stata una 24enne di Galuso. La giovane si era allontanata a piedi perché la vettura era rimasta incastrata con le ruote tre binari. Sottoposta al test dell'etilometro è risultata positiva ed è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. Il riverolo Canavese, soddisfazione per i docenti di risultato al Domoro, gli allievi delle classi quarte e indirizzo meccanotronica della sezione tecnica, sono stati i primi a conseguire la certificazione patentino della robotica Comau in Piemonte. Città metropolitana, nelle prossime settimane, per il settimo anno consecutivo, il servizio tutela fauna e flora e il servizio pianificazione e gestione rete ecologica e aeree protette attiveranno una campagna di tutela dei rospi e delle rane durante la migrazione produttiva, grazie alla posa di barriere temporanee che convogliano i selvatici verso i rospodotti, strutture che consentono agli anfibi di evitare di essere schiacciati dalle autoveicoli quando attraversano le strade extraurbane. È tutto per questa edizione. Per seguire le notizie in tempo reale è possibile anche scaricare la nostra nuovissima app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.